In attesa dell'arrivo delle nuove dosi, visto che le scorte di vaccini a Napoli si sono esaurite, i centri vaccinali sono stati chiusi e riprenderanno domani con l'apertura di tutti gli hub dalla stazione marittima a Capodichino, dalla mostra d'oltremare al Museo Madri alla Fagianeria di Capodimonte. L'ASL Partenopea, dopo il successo della notte bianca dei vaccini a Napoli con circa 8.000 dosi ai trentenni, riprende quindi da martedì le convocazioni per sms. Al di là delle attività dei medici di medicina generale e delle USCA per i pazienti non deambulanti, nella giornata di oggi operativo solo il centro vaccinale della mostra d'oltremare, dove sono state somministrate le seconde dosi di AstraZeneca. Ed è stato un successo la non-stop a Capodichino e alla mostra d'oltremare. In mostra, dove era prevista la somministrazione di Johnson & Johnson, sono state somministrate 3.840 dosi, mentre all'Hangar di Capodichino, con la somministrazione di AstraZeneca, 2.800 dosi. Un anno che non si esce la sera, ma è fatto anche strano, in realtà, uscire alle 10 di 6 e venire a fare il vaccino, però ci togliamo un pensiero, si deve fare. Importante è anche un grande privilegio, se pensiamo che non tutti hanno potuto accederci, quindi da non farselo scappare. Facevamo la notte bianca con Pino Daniele a Piazza Plebiscita, adesso la facciamo qui con il vaccino. L'aspettavamo da tanto, veramente questo momento se l'abbiamo fatta. Intanto Confindustria Benevento ha organizzato il primo hub vaccinale interamente riservato alle attività socio-economiche e produttive del Sannio. Oresse Vigorito, presidente di Confindustria Benevento. È un hub che sta funzionando molto bene, ma quello che ti riempie di soddisfazione è il clima di serenità che è tornato nelle aziende che si stanno servendo di questa nostra struttura, questa che abbiamo creato con una grande collaborazione e sinergia con l'Asia e con l'Asla e che sta riportando nella gente la speranza e la voglia di ripartire. Abbiamo fatto ad oggi un migliaio di vaccinazioni e noi contiamo di incrementare, creando anche opportunità per eventuali Open Day ed altro.